Vi propongo un giochettino. Qui abbiamo la ricetta delle lasagne. Questa è scritta così. Ah, una ricetta qualsiasi, non so se è quella corretta, non importa. Dice, fate un battuto di sedano, carota, cipollo, che andrete a soffriggere, è trascorso 15 minuti, bla bla, quando la parte è alcolica, il ragù, eccetera, eccetera. Abbiamo un modo di raccontare una ricetta. Poi ne abbiamo un'altra. Come preparare le lasagne? Inizia così. Nel 1535 alla Corgio Giovanni II vi rendete una gara di cucina. Lo scopo della gara è un sistema nel produrre un piatto di una qualità eccellente che unisse una prima portata con una seconda, insieme a ingredienti della colazione mattutina. Nacquero così le lasagne, poi continuano evidentemente con la ricetta. Poi abbiamo un terzo modo che è questo. Abbiamo delle immagini numerate e poi, questo è un classico tutorial, vedete, i numeri sono riportati all'interno della spiegazione. Così tu segui per preparare la lasagna, la bolognese, inizia la gu, prepara 1, 2, 3. Poi, queste immagini invece ne parliamo dopo. Allora io vorrei sapere da voi, tra 1, 2 e 3, qual è la soluzione migliore, secondo voi, la composizione cognitiva migliore? Sì. Ok. Anche io 3. Sì, anch'io la 3. 3. Optate per la 3. Potete tranquillamente utilizzare modelli come questo per rappresentare dei concetti che volete spiegare, dei contenuti che volete rappresentare. Dunque, un suggerimento è proprio questo. Usate questi modelli, guardate come, anche a partire dalla cucina, vengono rappresentate, suddivise, eccetera, fate la stessa cosa. Funziona molto bene. Funziona molto bene. Quindi è molto giusto. Ma c'è anche un'altra cosa che vi suggerisco. Non disdegnate questa. Perché se voi introducete la vostra spiegazione con un'anedottica di questo genere, dei riferimenti storici, che cosa fate? Sicuramente togliete l'attenzione da una pura procedura meccanica, che è quella che bisogna imparare, chiaramente. Perché se voglio imparare a fare le lasagne, non è che posso fare la filosofia delle lasagne. Non posso invitare 20 persone a cena e poi gli spiego come è la corte e dico immaginate i profumi che potrebbero uscire da questi piatti vuoti. No, perché non verrebbero più a cena a casa mia. Ma forse è quello che voglio ottenere. Allora, se è quello che volete ottenere fate così. Ma se io li invito a cena a casa mia e prima di servire le lasagne spiego qualche cosa sulla tradizione delle lasagne, magari quella di mia nonna, che è cosa che voi fate normalmente, tra l'altro, e poi qualcuno vi dirà ma come l'hai fatto? E allora lo spiegherete, perché nelle sue procedure voi ottenete un risultato migliore. Perché ottenete un risultato migliore? Ottenete un risultato migliore per lo stesso motivo per cui prima invece lo abbiamo considerato come un aspetto negativo. Vale a dire, qui sollecitate l'immaginario del soggetto. Tra l'altro questa cosa l'ho completamente inventata, non ho voglia di mettermi a cercare delle notizie storiche reali sulle lavagne. Ma l'ho inventata però per quale motivo? Anche. Perché potete inventare, siate creativi. Potete anche raccontare una storia che non esiste e poi dite che questa storia non esiste, ve la siete inventata. Ma rimarrà sicuramente in testa e faciliterà l'apprendimento di una procedura così ben organizzata. Allora, guardate. Questa è una foto che illustra una ricetta di lasagne. Ora, vi pare possibile che questo possa essere interpretato come una porzione di lasagne? Sì, perché voi sapete cosa sono le lasagne. Certo, per voi sì. Ma per una persona che non sa cosa sono le lasagne, non può pensare che questo sia un sandwich particolare? E non il taglio di una porzione di lasagne? Mettetevi nei panni di chi non sa che cos'è una lasagna. Ma possiamo parlare di qualsiasi concetto nei confronti di una persona che non sa nulla di quel concetto. Non ne ha mai sentito parlare. Che cosa deve pensare? Com'è possibile corredare una ricetta con un'immagine di questo genere? Invece la rappresentazione corretta è questa. E' questa perché io devo mostrare il contesto dal quale poi una porzione di lasagne viene estrapolata. Perché allora faccio comprendere che bisogna preparare una teglia di lasagne e non un sandwich di lasagne. Ora, queste interferenze sono proprio delle interferenze linguistiche. Sono delle interferenze che hanno a che fare con i significati, il rapporto tra i significanti e i significati. E noi dobbiamo pensare che abbiamo degli studenti che hanno esperienze culturali, tradizioni, linguaggi, storie assolutamente differenti. E non solo, ma che queste differenze si approfondiranno sempre di più. Perché nelle nostre scuole abbiamo sempre maggiore varietà proprio. Quindi non dobbiamo dare nulla per scontato. E dobbiamo sempre ricondurre il concetto al suo contesto. Quindi ragazzi, questa è una teglia di lasagne. Quello che noi produrremo è una teglia. Ma attenzione, non si mangia tutta una teglia. Una porzione. Quindi qui ci saranno sei, le porzioni per sei persone. O per tre, se siete dei maggiori. Quindi ricondurre il singolo concetto sempre al suo contesto originale. Pensando che i soggetti con cui noi abbiamo a che fare potrebbero avere dei cortocircuiti proprio nel passaggio, in questo passaggio che non è proprio un passaggio logico, è proprio un passaggio di senso, di attribuzione di senso a un oggetto.